Basta demonizzare il tessuto adiposo. Il grasso non è più qualcosa da combattere a tutti i costi, ma anzi è un tessuto ricco di sostanze importantissime e di cellule importantissime come le cellule staminali. Ecco perché il tessuto adiposo, quando in alcune zone alcuni accumuli possono essere inestetici, non deve essere eliminato ma deve essere riutilizzato. Il grasso si estrae dalle zone dove l'accumulo può essere inestetico e viene riutilizzato per esempio grazie alle sue cellule staminali per l'ingiovanimento del volto, ma grazie agli adipociti anche per tonificare e ridare un bel tono al seno oppure ridare una rotondità ai glutei. Quindi ricordatevi, grasso è bene.